Che tocca adesso? Ci sono? Allora abbiate e gornate, perfetto. Allora abbiate e gornate. 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 Allora abbiate. Allora abbiate e gornate. 2 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 1 è valido? 5 a 1 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 16 15 16 16 16 17 16 17 18 20 21 21 22 23 22 23 24 24 25 25 25 26 23 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 29 29 31 21 32 33 33 32 Sì, 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 sì. 6 a 1 6 a 1 7 a 1 7 a 1 7 a 1 7 a 1 7 a 1 7 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 9 a 1 9 a 1 10 a 1 10 a 1 10 a 1 10 a 1 7 a 2 8 a 2 8 a 2 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 8 a 1 9 a 1 9 a 1 9 a 1 9 a 1 10 a 4 10 a 4 11 a 4 11 a 4 11 a 5 12 a 5 12 a 6 12 a 5 12 a 6 13 a 6 14 16 16 16 16 12 a 7 12 a 7 13 a 7 14 a 7 14 a 8 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 Grazie a tutti. 15 a 9. Ma perché non state pensando al pollo? È arrivato! Vedi? Prendi il pollo che non ci lucirà. Dalla pastina al pollo. Perché non state pensando al pollo? Prendi il pollo. 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 16 a 9 16 a 10 16 a 11 16 a 11 16 a 12 16 a 13 16 a 13 17 a 13 17 a 14 17 a 14 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 25 25 25 25 26 27 28 28 28 25 25 25 25 26 27 27 28 Grazie. 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 Vieni qua. Diciotto pari, eh? Sei pronto? Si fa al 21. 19 al 18. 19 al 18. Sì, sì, ho visto. Diciannove pari. Foto finish qui, eh? 20 a 19 20 a 19 20 a 19 20 pari 20 pari è incredibile che fa il prossimo vice ah 2-2 ah vabbè allora andate pure 1-0 quindi 21 a 20 quindi bisogna vincere di due 22 a 20 foto foto avete fatto una rimonta strepitosa foto foto di foto ricordo avanti di 6-7 e amareggiata l'avversaria che abbraccia il nemico beh è stata bellissima peccato che scusa l'onate con chi è giocato la prima partita questo è secchio ah perfetto adesso giochiamo contro l'unica vabbè adesso non è capace di giocare ma dovrebbe arrivare No, ma che mi devi andare a vendare? Come se lo facciamo, se lo facciamo. Non c'è il cioccoletto, non c'è? Se è il cioccoletto, non c'è? Se è il cioccoletto, facciamo la mano. Amore mio, ti dimenticiamo. Amore mio, ti dimenticiamo. Ti dimenticiamo. Ti dimenticiamo. Ti è ristrutturato una siglia, prendo un'altra. Se è calma, eh? Se è calma, eh? Se è calma, eh? Grazie per la visione!